Piedrino Piedrino si fu tra un'ora, la mamma si affaccia alla finestra, disse la mamma, Piedrino che ci fai ancora qua? Disse Piedrino, e mamma sta aspettando la madonna che mi accompagna. Mia mamma tutto bene? Come sei andata a scuola oggi? Bene. E cosa hai fatto? Ho fatto il quaderno. E cosa ti ha detto la maestra? Brava. Ah, e ce l'ha messo il voto? Mamma come sta? Bene. E cosa sta facendo? Sta davanti ai fatti. Ah, e non la sta aiutando? Un po' così. E papà dove è? Da lavoro. Ah, e chi c'è con te? Solo mamma. Che ci hai messo nel quaderno a scuola? Ci ha messo campionessa. La maestra? E tu cosa ci hai messo dentro il disegno? Un cuore. Ah, hai fatto un disegno? Non hai scritto niente? No. Cosa puoi fare da grande? Sempre la ballerina. E perché? Sei ballata? Sì. Oggi a scuola basta il sugo, il labbrato. A casa c'è uno che si chiama Gastone. Ci dico seduto, lui non ci siede. Quando Fabrice ce lo dice invece si siede. Cosa puoi fare da grande? Sì. 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 Grazie a tutti